ciao a tutti da iota e bentornati sul canale su envil saga succedono cose strane a parte il fatto che è in off camera sono andata avanti per portare la popolarità la fama a 50 e farmando un sacco di soldi e poi facendo il change room design questo cliccando su tutto tipo su questo facendo così bam aumenta automaticamente la fama questo ci ha potuto portare a un livello più alto finalmente cioè a livello 50 il che ci serve per upgradare questa non ci dà ancora il rosso livello 50 però vabbè credo che voglia solamente 200 gold adesso vedremo se possiamo farlo questa si è baggata è arrivato un un pirata non so perché è scomparsa la ui e a un certo punto non potevo più comprare l'oggetto per farmare per fare la bussola è andata avanti negativo negativo e credo che si riempirà all'infinito non lo so penso che si sono baggati questi o spero in un'altra persona che venga che voglia acquistare un altro oggetto e possiamo sbaggarlo nel frattempo byron è venuto per allimarsi la sua perché vuole limata la sua spada e non abbiamo per limare la spada abbiamo bisogno di una greenstone quindi di una pietra che lima ma non ce l'abbiamo vediamo se possiamo upgradare la nostra stalla perché poi non è stalla la nostra forgia bando alle ciance proviamo no cos'era come si faceva no quella gratuzza vi dormendo stai lì allora non ho capito 200 ce ne ho 300 2000 diciamo così pausa allora vediamo un attimo forse è ancora il pennello no allora cambia struttura no scegli la stanza no ah forse è l'upgrade eccola qua è questo vai no non va vai 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 livello 50 di fama c'è ah no sono un pirla ok 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 non è livello 50 di fama ho alzato la fama ma adesso la mia fama è ancora 20 ok perfetto facciamo dormire il cipollipo scusate ne merito deficiente tra l'altro cioè ho aumentato il massimale della fama ma non la fama ok andiamo a aumentare la fama aspettando che lui dorma questa qua non me la dà neanche come questa attiva cioè se io vado qua questa attiva mi da solo questa quindi non lo so vedremo avremo una striscia rossa questo qui sta dormendo qui da una vita va bene e ci ha fregato pure un letto questo che vuole i soldi questo vuole i soldi sicuro e ci speglia ok e beh non so ci butta via facciamola regolare perché io non so che cosa voglia la regola possiamo già farla no cosa vuole comprato niente vuole lui lui è già no charlie non lo so sharp questa no vabbè certo niente facciamo un po' di questi no tu devi andare a fare qua apriamo allora abbiamo la strega invece di il del mendicante allora vediamo cosa vuoi tu perfetto vai allora noi siamo in questo momento 100 100 100 3 41 ok 21 di fama perfetto nel frattempo smitiamo un po' forgiamo un po' questo secondo me possiamo dargli la priorità zero perché è andato via quello è secondo me ha finito sì va bene no no non devi spostarti così bene chi è che sta dormendo accettiamo pure questa che è la strega infatti lei ci busta che cavolo vuole questo vabbè facciamo le trappole 5 trappole vuole 4 questa cosa vuole 3 di questi facciamo quello questo buttiamo qua oh la streghetta la streghetta vuole 3 di questi va bene 2 no 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 cacchio cacchio facciamoci prima la strega questo non lo vogliamo perché c'è la strega e cozzano strega e religione e il prete lì il monaco chi è cozzano ok eh questo vuole pagato le tasse come al solito eh infatti ce l'ha in fronte scritto tasse ok hanno hanno aggiunto le le stagioni quindi siamo in estate perfetto grazie dacci soldi siamo a 25 di fama possiamo facciamo quanto vuole 4 allora dobbiamo switchare lui in in e questo non funziona fermo un attimo ok non ho capito si è bloccato tutto vai niente questo l'abbiamo perso eh eh lo so ci sono accumulate troppe cose ok vai ne servono 4 ah abbiamo preso il mendicante adesso vabbè vai vai 26 26 di 50 chi è che sta dormendo lì vai a dormire chi non vuoi 5 faccio un bandit 3 4 e 5 ottimo direi e da questo punto forse dovremmo chiudere non so se ce la faccio a farlo poi ci fa prendere più soldi questo chi è 4 vediamo ah arrivano gli ant adesso quindi ottimo 6 da 4 1 fatti stanno preparando per per la caccia vediamo un attimo se cosa ci alza di questi ci abbassa questo e ci alza questo è un po' brutta sta cosa che chiudiamo ciao si piangete ah non mi interessa allora allora lui ha bisogno di mangiare prima facciamo dormire questo ah è lui ma bagato è doppio si è bagato vabbè eh vabbè vabbè ok vai a mangiare a tempo lui fa quello magari si è sposto il letto vediamo magari lo posso mandare a dormire qui ci provo tu vai a dormire no non te lo fa l'antica ma io so che c'è lì c'è uno però sta a fame e no allora dov'è il cibo qua compra nel frattempo che lui mangia questo continuerà così tu vai qua è perfetto e tu vai a dormire così recuperi l'energia ok bene in questo piccolo flash di aggiornamento di ambisaga che vi ho dato io direi di chiuderlo qui è in off camera perfetto lui non sta a unforge più vabbè allora se non forgi più perché si è arrivata al cap te ne vai a minare qua boostiamo a 4 la linea rossa continua ho provato anche a caricare salvare ma non funziona è proprio così ok aspettiamo che arrivi qualcuno ah nel frattempo fermi tutti vediamo se riusciamo a modificare o spostare una stanza se si tolgo questo training room ciccicium no no non te la fa fare vabbè ma frega del letto colmine iniziamo con questo quanto ci dai di fama 32 attenzione 1 2 3 chi è questi qua chi sono questi sono due insiemi secondo me ecco questo che vuole il solito cretino che ci dice piro 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 papo va bene facciamo sto eccellente orecchino compriamo una gemma vediamo se recuperiamo un po' il blu della francia quello è arrivato con la gemma perfetto facciamo prima lui dopo dovremmo fare lei o lui anzi che gli regala gli orecchini a olivia e siamo a posto si ho fatto non so quanti soldi mi abbia dato eccolo qua eccolo qua arriva buono così ci ci fa perdere tempo per fare la porgia grazie dammi soldi però arrivano i banditi no 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 in debito basta mi servono soldi ho già troppi soldi in debito e nessuno mi ha dato più i soldi cioè ispetto ancora i soldi dai monaci ok ci siamo ah ma è chiuso perché che l'ha chiuso vai vai 35 va benissimo facciamo questo aggeggio che non so cosa sia una cosa di pesce va bene questo qua nasce qualcosa del genere great 37 sai come si ristora la salute ah col training forse con la palestra ok le vuole la catenozza vecchia marpiona ci fa con la catena questa qua oh robin hood è arrivato no no le voglio le beer skin no 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 15 di debito sei pazzo puoi piangere voi siete siete marcioni siete sì va bene cinque cinque metalli vuole è la peppa questo ah questa me la paga la lancia buone 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 Ok Bomba da 40 Stavo parlando in inglese Ok spero che questo qua non ci porti a 41 Volevo un 42 però vabbè Riusciamo a portarla a 50? Cioè vorrei concludere questa puntata con finalmente upgradare la baracca qua Questo cosa vuole? In debito Ma in debito no non ci vogliamo Ci devi dare i soldi subito noi non siamo debitori Cioè nel senso non vogliamo debitori Esatto questo ci da 13 per esempio Questo sta andando ok questo quant'è di energia? Sai che ti dico io questo qua lo manderei a dormire adesso In modo tale che così posso switch quando lui è pronto Anche perché ho un letto solo perché come sapete lì c'è qualcuno che se la sniffa al posto nostro Se la ronfa al posto nostro E non ho capito chi è Vabbè Secondo me è lui però Boh E se lo butto fuori secondo te? Boh Non lo so Piccoli errori va va bene Come per esempio questa bellissima striscia rossa che non finirà mai di esistere secondo me Arriverà qua La vedremo passare attraverso qua Non so perché va in negativo però Questo si è incavolato perché ho servito lui invece che lui Va bene va bene va bene Chi è questo con questo bel cappello? Buongiorno Ah una trappola To Una bella trappola per te Che non fa mai male Allora tu come sei messo? Ah vabbè ci stiamo Cibo ce ne abbiamo Tu vuoi Questi pezzi Siamo a 46 signori Ci siamo quasi Vediamo il frangioso cosa vuole Questo ha finito di dormire Il frangioso vuole i coltelli Credo che siano coltelli O speroni da cavallo Questo viene in debito Sicuro guarda Guarda 3 2 1 Ah no Bravo Bravo ragazzone Bravo Finalmente un vero cacciatore Se se lo dice lui stesso Bravi bravi Vedi che vogliono subito i soldi Cioè mi danno subito i soldi Oh oggi proprio zero eh Cioè Chi è questo qua? Questo è nuovo Questo era nuovo Lo potevo fare Però se Si è incavolato No meno uno Si è incavolato Era nuovo Non so chi sia Vediamo se mi fanno fare un po' di lingotti Siamo a 49 Me ne manca uno Dopo di questo Chiudo la baracca E Faccio l'upgrade Tempo di strecciare i muscoli Ora questo si è incavolato Guarda 50 Quindi lo possiamo fare Facciamo l'ultimo Anzi andiamo al cap Completiamo 250 52 Tanto per Più uno Tre Ci siamo quasi Conta la rovescia Done Ok Tu vai a dormire Che sei stanco Nel frattempo La nostra strecciare rossa Ha continuato E finalmente Potremmo fare Questo Vai Mi ha dato l'achievement Ok E che cos'è cambiato Non lo so Vediamo Cos'è cambiato Non sembra cambiato tanto Ah 30 lingotti Adesso possiamo Tenere Quindi lui può forgiare Per 30 lingotti Ok Quindi possiamo fare Più roba Questo naturalmente Non ci può far fare niente E lui va a dormire E se volessi Cambiare No Questo cosa c'è Ah C'è il tetto Intero Fama 6 Ok Facciamolo Facciamolo Intanto Scrambella Vabbè Possiamo aggiungere Una nuova stanza Poi non lo possiamo Aggiungere C'è un nuovo letto Signori Allora Vediamo un attimo Così Ok Abbiamo fatto Una nuova stanza Perfetto Così nel frattempo Che lui fa questo Aumentiamo La velocità A 4 Così abbiamo La doppia stanza Qua Facciamo Le stanze Che è successo E' la gara Ma sento ancora Il rumore Della forgia Poi ve lo leggete Con calma Eh Ok Aspetta 2 Ok Ah Sta forgiando lui Che devo fare Lui è il capoccia Che devo fare Non so che devo fare Ah Dobbiamo completare Gli ordini C'è il dubbio Ah è una battaglia Siamo alla grande sfida Quanti ne abbiamo 12 11 Lo sconosciuto Voleva una trappola Gliel'ho fatta È già finito Sono io il migliore Cioè Siamo a 7 A 7 Questo lo posso fare subito Ok Che vuole Questo Stiamo Vai Ok Ok Cosa posso fare Quello Vai Questo 1 Eh dai Oh Eh per ogni 2 minuti Lui è 17 Io sono 11 Faccio schifo Eh se no Questo decilina Declina Così non lo perdo 13 a 19 Ok Andiamo Vai Questi secondo me Ci danno di più Vediamo Io ne completo 1 18 18 18 18 18 18 Mi servono a meno 4 o 3 4 Vai Elimina questi Questo no Perfetto Come 13 Siamo fregati Ok ho capito Giovanni Eh 3 Perché ogni volta che poppa quella cosa Io non posso fare niente 19 Siamo noi Eh ma loro Sono in 2 O no Non lo so Mi pare un po' di cose Qua Togliamo questo Togliamo questo Diamo questo Diamo questo Lui Lui Ci sta facendo malissimo Ci siamo fregati Dovevamo fare Quegli altri Quelli special Ma è lentissimo Noo Vabbè Signori Abbiamo perso Juggernaut Eh sì 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 Ma lui Cosa ci dice Che il suo migliore è Per la danza Dai Eh Quello c'era L'amico Comunque Nella provincia Della Blacksmith Olivia Il padre di Olivia Ah Hai capito E te la ballo Noi siamo felici Ok Beh Che è successo Ci stanno Facendo le cose Il narratore Vediamo cosa dice Cioè Arturo Stava a fare Cosa E poi L'ha fatta E il narratore Com'è che parlava Il narratore Non mi ricordo più Ok That's all for now Keep an eye on the hype date To find out What happens To Art Otis Forge Ok Bene signori Abbiamo finito La L'early access Di questo gioco Spero che vi sia piaciuto È una Serie corta Ma che vi fa capire Un po' più Come si possa sviluppare Al meglio Il gioco Come sempre Ormai Quasi forse Inutile dirlo Lasciate un Bel pollicione In su Un Ovvero Like Chiamatelo come volete Un commento E Se vi va Iscrivetevi Per supportare Questo canale Ci fa molto Molto Piacere E come sempre Siete mitici Alla prossima Bye bye Alla prossima Alla prossima Alla prossima